Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta soffice con buffer e nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 20 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, uova, zucchero, olio di semi di girasole, latte, vanillina, buffer alla nocciola, lievito per dolci vanigliato e nutella. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere lo zucchero, uova ed azionare il bimbi per otto minuti, velocità 4 senza misurino. Azionare il bimbi a velocità 2 e dal foro del coperchio aggiungere l'olio e il latte. fermare il bimbi ed aggiungere la farina, il lievito e la vanillina. Ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4. Versare metà del composto in uno stampo da 24 centimetri ben imburrato. mettere metà dei buffer e una parte della nutella. Versare il resto del composto. Aggiungere il resto dei buffer e il resto della nutella. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 40 minuti circa. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Torta soffice con buffer e nutella. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!